Il big match del Vincenzo Savini va al Matelica che si impone 1-0 e consolida il proprio secondo posto, confermando di attraversare un momento davvero positivo, sesto successo di fila. Ma il notaresco avrebbe meritato di certo di più per mole di gioche ed occasioni costruite e mancate di un niente. Invece stiamo a parlare del secondo K.O. consecutivo, seconda sfida senza trovare la via della rete. Prima della cronaca va segnalato l'acceso battibecco tra la tribuna e il tecnico ospite Tiozzo, che squalificato si è accomodato nel settore ospiti. Continue sono state le provocazioni. Le premesse della vigilia vengono subito confermate. La sfida entra subito nel vivo. Dopo appena 50 secondi, infatti, serve uno straordinario intervento di Monti sulla battuta dalla distanza di Losicco. Gli ospiti si accontentano dell'angolo. Si gioca a viso aperto, con capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra. Al ventesimo è ancora duello tra Losicco e Monti, con l'estremo difensore di casa attento nel deviare la punizione scagliata dai 30 metri. Un giro di lancette più tardi, però, il notaresco sfiora il vantaggio. Sugli sviluppi di un angolo bontà sul secondo palo è indisturbato, ma il suo colpo di testa lambisce il palo alla destra di Avella. Poi la gara cade un po' di tono, complici anche alcune scelte del direttore di gara, che finiscono per innervosire i 22 in campo. Ne fa le spese al trentaseesimo il tecnico Mirko Cudini, allontanato per proteste dal fischietto siciliano. Prima del riposo i rosso-blu di casa sfiorano ancora il vantaggio in due occasioni. Al trentanovesimo azione in velocità, sul cross di Moretti, velo di Minella per la corrente e la ringe, che si libera bene e conclude a colpo sicuro. Avella si immola e respinge. Meno di un minuto e bontà ci riprova ancora di testa, ma l'esito è sempre lo stesso. Palla di un niente sul fondo. A rientro dopo l'intervallo sei giri di lancette e la gara si sblocca. L'intuizione di Angelilli, Bittaia in velocità anticipa Monti in uscita. Il palo nega la gioia della rete all'ex Avezzano. Il tapin vincente è di dorato, che beffa tutti. Notaresco 0, Matelica 1. Veemente la reazione dei padroni di casa. Al sedicesimo serve un altro superintervento di Avella, che nega la gioia della rete a Moretti, il cui colpo di testa sembrava davvero ben indirizzato. Lo stesso attaccante rosso-blu al ventiduesimo sfiora il colpo grosso, con una conclusione dall'interno dell'area di rigore. Minuto 31, il Matelica resta in 10. Angelilli sugli sviluppi di un angolo mette la palla in rete con le mani. L'arbitro se ne accorge ed estrae il rosso per doppia munizione. Il notaresco ci crede ancora di più, ma fino al triplice fischio c'è ancora una sola emozione. Al quarantottesimo, in pieno recupero, con colpo di testa di Dalmazzi, che sfiora letteralmente l'angolino. Dopo cinque minuti di recupero, finisce il confronto, con i rosso-blu usciti comunque tra gli applausi.